Musica Viabilità della provincia di Salerno, il via e i lavori su tutta la rete viaria della provincia. Musica Caggiano, tragedia sfiorata a fuga di gas, sei operai intossicati, due trasferiti a Salerno. Buon abitacolo, arrestato 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Progetto garanzia giovani, Teggiano tra i primi comuni a presentare il progetto, richieste specifiche figure professionali. San Pietro Altanagro, ieri sera la riapertura del lavatoio comunale in località Secchio, festeggiamenti anche in onore di San Giuseppe. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'Euno News. Il questore di Salerno ha disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili della città per il pericolo terrorismo. In tanto stanno rientrando i 30 studenti salernitani scampati dall'attentato che c'è stato nei giorni scorsi in Tunisia. Stanno bene e sono in viaggio i 30 studenti salernitani di Maiori e dei tre accompagnatori, ieri a Tunisi miracolosamente scampati all'attentato al Museo del Bardo, costato la vita 22 persone, di cui 4 italiani. I 30 allievi dell'Ipsar e dell'ITC, Pantaleone Comite di Maiori, a bordo della costa fascinosa, solo per una fortunata coincidenza, non erano nella comitiva che dalla nave da crociere aveva raggiunto il Museo di Tunisi, optando invece per una destinazione diversa, in particolare un'escursione alle rovine dell'antica Cartagine. La comitiva salernitana è stata informata dell'accaduto dalla dirigente scolastico Lino Scannapieco, che dalla presidenza dell'istituto, coadiuato dai collaboratori di segreteria, ha anche provveduto poi a comunicare con le famiglie dei ragazzi, tranquillizzando tutti. Tutto è bene, ciò che finisce bene e quella di ieri per i 30 studenti e i tre professori è stata soltanto una giornata molto particolare che ricorderanno per tutta la vita. Ma da sé che l'attentato di Tunisi, il crescente clima di terrore, oggi non risparmi proprio nessuno. Da qualche giorno, ad esempio, su disposizione del questore di Salerno, si è deciso di rafforzare i sistemi di sicurezza intorno a quelli che sono considerati obiettivi sensibili. L'input è arrivato a Salerno direttamente da Roma ed il presidio del territorio è stato affidato ai militari dell'esercito, gli uomini del XIX Cavalleggeri Guide, che stanno pattugnando, con diverse unità mobili, alcune zone della città, il Duomo, il Tribunale, il Comune, le redazioni giornalistiche. Tutto questo, mentre ancora non si placano le polemiche, per la decisione assunta dal Comune di Salerno di autorizzare la comunità del Bangladesh e di istituire un centro di culto islamico in pieno centro cittadino. Una decisione che ha già suscitato nei giorni scorsi diverse polemiche, ma che, alla luce di quanto è successo a Tunisi, rischia di scatenarne ancora delle altre. Effettuate le comunicazioni ufficiali al Comune di Salerno, alla Prefettura e alla Questuna, Orsen Alam Ghir, presidente della comunità del Bangladesh, ha affittato, come è noto, il locale in via degli Orti, stipulando un contratto di locazione per un anno dell'importo complessivo di 6.000 euro da dividere nell'intero periodo per 500 euro mensili. In caso non sorgeranno problemi, questo contratto potrà essere rinnovato per un periodo più lungo. Cambiamo pagina, apriamo quella della viabilità. Sono agli ultimi dettagli l'iter burocratico per il via libera ai lavori di messa in sicurezza delle diverse arterie stradali a sud della provincia, colpita nei mesi scorsi e negli anni scorsi da frane e smottamenti. Dovrebbero partire a breve i lavori per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità sul territorio provinciale. Una rete viaria che è stata ed è tuttora soggetta ad un numero indefinito di frane e smottamenti che rendono il territorio provinciale, in particolare nella parte sud, impraticabile. Arriva ora finalmente l'attesa notizia di prossimi interventi sulla rete stradale. Ad annunciarlo il consigliere provinciale delegato alla viabilità e sindaco di Padula, Paolo Imparato, che parla anche di prossimi interventi sulla SS19 Ter tra Oletta e Pertosa, per i quali sono già pronti gli atti per la sottoscrizione del contratto che porterà poi alla realizzazione dei cantieri per avviare i lavori. Sono invece già in procinto di essere avviati i lavori sulla strada provinciale 430 tra Agropoli e Prignano-Cilento e sembra che siano a buon punto, anche con l'iter burocratico, per l'avvio ai lavori sulla strada provinciale 82 Policastro-Santa Marina e sulla strada provinciale 210 Morigerati, oltre che per la strada provinciale 269 Ascea, con gli atti già trasmessi all'ufficio competente che dovrà predisporre i contratti. Ad essere presto interessati dei lavori, fanno sapere dalla provincia di Salerno, anche le strade provinciali 16 Casaletto-Spartano, Tortorella, Torraca, Vibbonati e la strada provinciale 93 Rofrano. Inoltre, su disposizione del presidente Giuseppe Canfora, al fine di velocizzare gli atti, sono state richiamate una serie di gare, inizialmente affidate alla stazione unica appaltante, per le quali, entro una decina di giorni, dovrebbero essere indette nuove gare, per i lavori sulla strada provinciale 11 Albanella, strada provinciale 430 Montanantilia e sulla ex SS 488 Roccadaspide. Ulteriori lavori sono previsti sulla strada provinciale 101 Sarno, sulla strada provinciale 12 Cordeto-Monforte-Sacco e sulla strada provinciale 16 Torraca. E ancora la strada provinciale 430 Rocca Gloriosa, la strada provinciale 381 Laviano e la strada provinciale 91 Castelnuovo di Conza, a cui si aggiungono anche la strada provinciale 257 Pisciotta e la strada provinciale 48A Pollica. Inoltre, questa mattina, la trasmissione degli atti alla regione Campania per il finanziamento del progetto sul viadotto di Agropoli e sulla Cilentana. Un lungo elengo di arterie che necessitano di messa in sicurezza per un miglioramento generale della viabilità in provincia di Salerno. Tutti i lavori che andranno a toccare le aree periferiche del territorio provinciale ed in particolare nella parte sud della provincia. Intanto, questa mattina abbiamo ascoltato il consigliere provinciale con delega alla viabilità Paolo Imparato che ha sottolineato la volontà dell'ente di accelerare la realizzazione di questi lavori e cercare di completarli entro settembre. Innanzitutto, si è pensato alla parte sud non per una questione di appartenenza logistica. Nella provincia sud ci sono particolari disagi, frani, smottamenti e chiusure di strada. Questo è un fatto risaputo da tempo. Quindi, tra l'altro, la mia azienda è provincia sud di Salerno. Ma se siamo partiti veramente in tempi record è proprio perché, su mia proposta, il Presidente ha adottato alcuni provvedimenti proprio per accelerare. Praticamente gli appalti fino a un milione e mezzo che prima faceva la stazione unica appaltante adesso li fa direttamente alla provincia. Praticamente noi in dieci giorni facciamo la procedura negoziata invitando a rotazione le ditte e nel giro di 15-20 giorni stipuliamo anche il contratto con le ditte e quindi le ditte possono partire. L'obiettivo qual è? È quello di fare questi lavori particolarmente urgenti e particolarmente delicati, di farli nel periodo estivo, cioè cercare di partire per quanto più cantiere possibile da aprile fino a settembre, che è poi il periodo che le ditte possono lavorare e possono lavorare anche con condizioni climatiche ottimali. In più facendo così si crea anche un po' di occupazione, si dà lavoro alle imprese, si dà la possibilità di poter assumere qualche operaio. Un progetto per andare in gara e per fare il contratto ha bisogno di tutti i parelli. I parelli ci sono, tra l'altro questi non è che sono lavori e questo nuovo, sono ripristini di calamità, di eventi franose, di smottamenti. Quindi noi non è che andiamo a costruire nuove strade, noi andiamo a sistemare le strade che sono chiuse o che sono parzialmente chiuse o che hanno delle criticità durante il loro percorso. In più, la particolare attenzione abbiamo dato sul viadotto di Agropoli, questa mattina sarà pubblicata la determina firma del Presidente e questa mattina sarà consegnato il progetto in Regione. Spero che il decreto da parte della Regione arrivi in tempi strettissimi. Io ho già proposto al Presidente ieri di fare una lettera alla stazione unica appaltante, perché questo è un lavoro che va al di sopra del milione e mezzo di Euro e di 7 milioni e 2. Ho proposto al Presidente di fare una lettera alla stazione unica appaltante o di andare in deroga e di dare priorità a questa interventa. Io non ho problema se la gara la fa il provveditorato o la fa la provincia. Il mio problema è quello di stringere i tempi, cioè partire con i lavori in tempi strettissimi. Quindi o la stazione unica appaltante dà priorità a questo intervento, oppure di andare in deroga e di far fare la gara alla provincia, darci la possibilità di fare la gara in tempi strettissimi e di partire con i lavori in tempi altrettanto strettissimi. E apriamo la cronaca, un nuovo ospite dei laboratori dell'ITIS Gatta di Sala Consilina. Un ospite però non gradito. Sono i ratti che nella giornata di ieri sono stati individuati dagli studenti che invece questa mattina per protesta hanno affisso delle locandine con le foto dell'animale. Scatto che è stato immortalato da uno smartphone ieri, mentre il roditore si spostava in assoluta tranquillità nel laboratorio. Una situazione paradossale e assurda che gli stessi studenti hanno voluto denunciare con la speranza che in tempi stretti venga risolto questo problema. E cambiamo pagina, sempre in tema di cronaca. I carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Emanuele Tamorri, Alla termine delle attività di indagine hanno denunciato per il reato di soppressione, accultamento di atti, peculato e falsità materiale, l'ex direttore dell'ufficio postale di Massicelle, frazione di Montano Antilla, che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe raggirato una cliente sottraendole circa 7 mila euro. Le indagini proseguono per vedere se ci sono altre persone coinvolte ed altre persone ai quali è stato sottratto del denaro. Sempre in tema di cronaca, una fuga di gas all'interno di un'abitazione ieri sera a Caggiano poteva creare una vera e propria tragedia, ma così non è stato. Sei operai intossicati da monossido di carbone, due in condizioni più gravi, sono stati trasferiti a Salerno. Tragedia sfiorata a Caggiano. Sei operai di Bacoli, in provincia di Napoli, sono stati colpiti da un malore nella serata di ieri a seguito di una intossicazione da monossido di carbonio. Gli uomini lavorano per un'impresa che si occupa della ristrutturazione dei due vecchi edifici signorili di Caggiano, Palazzo Bonito Oliva e Palazzo Morone situati nel centro storico. Erano circa le 21 quando i sei operai hanno iniziato ad accusare il malore. Un paio sono svenuti, mentre uno di loro è riuscito ad aprire la finestra e a chiedere soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, un vicino di casa, sentite le urla di un operaio che chiedeva aiuto, non ha esitato ad intervenire presso l'abitazione e ha contattato il 118, i vigili del fuoco guidati dal capo squadra esperto Luigi Morello e i carabinieri della compagnia di sala Consilina. I sei sono stati immediatamente portati al vicino ospedale Luigi Curto di Polla per essere sottoposti alle cure del caso. Per due di loro, in condizioni più grave rispetto ai colleghi, è stato necessario il trasferimento presso il presidio ospedaliero di Salerno, dove sono stati sottoposti al trattamento della camera iperbarica. Al momento sono in corso le indagini per capire cosa abbia scatenato la perdita di gas e dunque la conseguenziale intossicazione dei sei operai. In casa erano presenti diverse stuve a gas, ma non sarebbero state la causa dell'intossicazione. Infatti, secondo gli esperti, potrebbe essere stato il cattivo funzionamento del sistema di trasporto gas che gli operai utilizzavano per il riscaldamento dell'acqua in casa a determinare la perdita che poteva costare la vita agli uomini. Al momento si tratta soltanto di ipotesi che aspettano di essere suffragate dalle indagini degli inquirenti. Uno spiacevole episodio di cronaca che poteva finire peggio, ma alla fine, per fortuna, non ci sono state vittime. E nell'ambito dei servizi a tutela dell'ambiente in tema di gestione, smaltimento di rifiuti, di dissestro idrogeologico e utilizzazione boschiva, il Corpo Forestale ha effettuato una serie di controlli in diversi comuni del Valo di Diano e in particolare tra Polla, Pertosa, Auletta, San Pietro Altanagro e San Rufo, rilevando illeciti appunto in materia di rifiuti, tagli boschi privi di autorizzazione e movimento terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. A Polla, una cava in località Mangosa, è stata sottoposta sotto sequestro perché è adibita nei giorni scorsi a discarica abusiva. Nei diversi comuni controllati sono state sanzionate circa una ventina di persone per un importo complessivo che si aggira attorno ai 25 mila euro. Restiamo sempre in tema di cronaca. È stato emesso mandato di arresto per il 32enne di Buonabitacolo. In casa aveva allestito una serra per la coltivazione di cannabis. Non si fermano le attività dedicate al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina al comando del Capitano Emanuele Corda con i militari che questa mattina hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni di Buonabitacolo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'uomo nelle scorse settimane ha seguito perquisizione presso la propria abitazione era stato trovato in possesso di diverse piante di cannabis dell'altezza di circa 2 metri e del peso complessivo pari a circa 8 kg. I militari della stazione di Buonabitacolo avevano appurato l'esistenza di una vera e propria serra adibita alla specifica coltivazione delle piante di cannabis. A seguito delle attività di perquisizione il 32enne era stato deferito in stato di libertà l'autorità giudiziaria di Lago Negro. Il giudice per le indagini preliminari ha ora disposto l'arresto per l'uomo che è stato seguito questa mattina dai militari del capitano Corda su disposizione della procura della Repubblica di Lago Negro che ha suffragato in toto l'ipotesi di reato dei militari. L'arresto è stato seguito dai carabinieri della stazione di Buonabitacolo. Ora l'uomo si trova ristretto in regime di arresti domiciliari. Resta quindi alta l'attenzione e si intensificano i controlli su tutto il territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per il contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente. Le operazioni dei militari al comando del capitano Emanuele Corda hanno infatti portato all'emissione di numerose misure cautelari nei confronti di persone dedicate all'uso e allo spaccio di sostanza stupefacente senza considerare la maxi operazione portata a termine nei giorni scorsi denominata End of Game che ha permesso di risalire ad un traffico di sostanza stupefacente di tipo cocaina proveniente dal Venezuela e trasportata in forma liquida in involucri ingeriti la cui presenza era difficile da rilevare. E voltiamo pagina martedì 24 marzo sarà inaugurata e quindi riaperta l'ex chiese della Santissima Trinità a Polla dopo i lavori di restauro effettuati grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea. La realizzazione e il completamento dei lavori sono stati finalizzati allo sviluppo di sistemi turistici andando a recuperare un luogo storico culturale da adibire come sala polivalente con relativi spazi espositivi all'evento inaugurale lo ricordiamo martedì 24 marzo con inizio alle ore 17 prenderanno parte il sindaco di Polla Rocco Giuliano e ci saranno anche gli interventi dell'assessore ai lavori pubblici Maria Citarella di Massimo Loviso vice sindaco di Polla l'appuntamento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca prevista inoltre la presenza del governatore della regione Campania Stefano Caldoro Teggiano è tra i primi comuni ad aver presentato il progetto Garanzia Giovani il programma che ha anche raccolto il applauso della regione Campania è stato realizzato attraverso la ricerca di figure professionali specifiche ne abbiamo parlato con l'assessore al comune di Teggiano Marianna Morello che spiega anche perché la scelta è ricaduta su determinate figure Allora sì abbiamo inoltrato a dicembre il progetto da noi fatto di Garanzia Giovani a inizio febbraio il DURC tramite il DURC c'è stata l'ammissione del nostro progetto praticamente si tratta di un progetto che vuole colmare quella che è la lacuna di Teggiano Praticamente visto che non ci sono delle figure che tramite il comune che possano aiutare i soggetti che sono in difficoltà sia motore oppure che hanno dei problemi nell'inserimento della società noi abbiamo creato queste figure cerchiamo di inserire queste figure che sono ad esempio OS, OSA, psicologi, operatori sanitari che sono dei progetti di tirocini attività a sostegno di queste persone verranno inseriti all'interno del centro di Anum a San Marco questi soggetti dovranno aiutare le persone che verranno individuate qui con affiancamenti sia educativi con aiuti anche per lo studio oppure quando ci saranno quelle persone che avranno delle difficoltà loro dovranno aiutare nel senso di prenderli ad esempio a casa portarli nelle varie strutture sanitarie per quanto riguarda il comune di Teggiano possiamo inserire all'interno di questo organico sei soggetti perché il progetto di garanzia giovani va in base alla percentuale dei dipendenti che sono del comune le figure che abbiamo individuato sono due tirocinanti due tirocinanti con profilo di educatore professionale sociale due tirocinanti con il profilo di operatori socioassistenziali un tirocinante per operatore socio-sanitario e un tirocinante con il profilo di psicologo dello sviluppo e dell'educazione avete già ricevuto domande? le domande praticamente i soggetti che sono interessati dovrebbero iscriversi alla piattaforma garanzia giovani da lì inserire il proprio profilo e poi attendere quello che è l'intervista una vera e propria intervista da parte dell'ufficio di collocamento una volta che questi soggetti hanno ricevuto questo altro profilo dall'ufficio di collocamento possono candidarsi all'interno del progetto che noi abbiamo inserito quindi per il momento siamo nella fase di raccolta delle domande per poter noi di conseguenza successivamente inserire con un link nella nostra piattaforma e quindi di conseguenza i soggetti si potranno candidare seconda parte del nostro notiziario e apriamo con la questione Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons Vallo di Diano con i responsabili Roberto De Luca e Salvatore Gasparro che hanno presentato alcune proposte per un parco più efficiente quando diversi mesi fa dagli Alburni è partito il movimento per chiedere la ridefinizione dei confini del parco evidenziando numerose criticità che scaturiscono dall'appartenenza all'area protetta non era facilmente ipotizzabile che lo stesso movimento potesse raccogliere un così ampio seguito che peraltro ha portato alla ribalta anche altre criticità rispetto a quelle inizialmente valutate sulla questione si registra anche l'intervento del Codacons Vallo di Diano che prende così parte al dibattito sull'utilità di appartenere al territorio Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni diversi temi trattati nell'ampio resocondo stilato dai responsabili Codacons Roberto De Luca e dai responsabili del settore agricoltura Codacons Salvatore Gasparro che partono dalla questione cinghiali senza però tralasciare la gestione e le regole il problema della fauna selvatica più volte sollevato in particolare per ciò che riguarda il presunto sovrannumero dei cinghiali non è particolarmente condiviso dai responsabili Codacons pur ritenendolo uno degli elementi su cui è necessario intervenire al fine di dare soluzione alla crescita incontrollata della popolazione di questi animali i responsabili Codacons Gasparro e De Luca presentano inoltre altre proposte in merito alla gestione dell'ente ritenendo necessario uno sdoppiamento della struttura e delle competenze con una sede magari a Vallo della Lucania che si occupi della gestione dell'area costiera ed una seconda sede nel Vallo di Diano chiamata a gestire le aree interne e montane la proposta viene giustificata evidenziando la difformità delle aree che così come gestita anziché cercare di rendere omogeneo un territorio mette in contrapposizione le due aree favorendola a disomogeneità sono inoltre necessari interventi e atti che rimettano al centro del percorso di crescita e di sviluppo l'uomo cercando magari di alleggerire l'iter burocratico attraverso le missioni di deroghe per i proprietari e nel contempo assicurare comunque una serie di attività che garantiscano la protezione dell'area protetta in quest'ultimo caso potrebbe risultare interessante e utile secondo Roberto De Luca e Salvatore Gasparro l'inserimento sul territorio del parco della forestale a cavallo per garantire la vigilanza tutto ciò collegato con azioni mirate allo studio della realtà paesaggistica del territorio del parco da cui poi eventualmente trarre appositi progetti atti alla valorizzazione dell'area si è giunti ad un punto spiegano dal Codacons Vallo di Diano in cui è necessario rivisitare le regole e la struttura stessa del lente per il rilancio del territorio compreso e adiacente al perimetro del parco nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni la nostra sede Codacons concludono in questo caso sceglie la strada propositiva affinché si possano individuare alcuni punti fondamentali sui quali non bisogna più mancare di agire invece di indulgere sulla sterile protesta L'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini ha approvato una delibera con la quale si prova a contrastare il fenomeno del pascolo abusivo che vedrà coinvolte le forze dell'ordine ma anche tutti i responsabili degli uffici competenti La giunta comunale di Montesano sulla Marcellana ha approvato in data 17 marzo 2015 una delibera che prevede altre forti misure restrittive per contrastare il fenomeno del pascolo abusivo su tutto il territorio comunale delibera che viene approvata in seguito alle norme adottate grazie al nuovo regolamento di Polizia Rurale A riportare la notizia ci ha pensato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Montesano Giuseppe Rinaldi che afferma abbiamo dato mandato all'area vigilanza di relazionare mensilmente alla giunta sulle attività poste in essere contro il fenomeno del pascolo abusivo sul nostro territorio di attivare contemporaneamente collaborazioni con le altre forze dell'ordine locali e monitorare particolarmente le aree segnalate più volte dalla cittadinanza Inoltre, dichiara l'assessore abbiamo dato indirizzo al responsabile UTC settore primo di valutare la sospensione della certificazione della fida pascolo a specifica del recente regolamento sugli usi civici qualora a taluni beneficiari venga accertata da parte degli organi competenti l'attività di pascolo abusivo Una battaglia di legalità, conclude Rinaldi che continuiamo a portare avanti senza sosta per la tutela della proprietà e rispetto delle regole Alle parole dell'assessore fanno eco quelle del primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Donato Fiore Volentini che dichiara Abbiamo dato ulteriormente forza con la delibera approvata all'azione costante di questa amministrazione contro il pascolo abusivo Dall'approvazione del nuovo regolamento di Polizia Rurale nel 2012 ad oggi abbiamo ottenuto buoni risultati Tuttavia, conclude il sindaco bisogna tenere desta l'attenzione Ieri sera a San Pietro Altanagro una grande festa ha salutato la riapertura del lavatoio comunale in località Seccio La data dell'evento è stata scelta non casualmente ma con l'intento specifico di dare anche risalto ad un'altra delle tradizioni che restano intatte a San Pietro Altanagro con la realizzazione dei falò di San Giuseppe Infatti, ieri sera ad aprire l'evento è stata l'accensione del grande falò realizzato dai residenti in località Seccio a seguire l'apertura ufficiale del lavatoio comunale ristrutturato, riportandolo così a disposizione della cittadinanza Il lavatoio, oltre all'utilità in sé è stato anche arricchito di immagini suggestive del territorio comunale anche con antichi detti e con i luoghi di maggiore interesse dal punto di vista culturale e paesaggistico dopo l'apertura che ha suscitato un grande apprezzamento dai cittadini si è tenuta una grande festa intorno al falò con la degustazione di prodotti tipici locali e con tanta musica ma adesso ascoltiamo le interviste realizzate all'assessore Pagliaduo e al sindaco 40 Per questo devo ringraziare i fondi del GAL Valediano preseduto da Attilio Romano tramite i quali noi abbiamo soffrito appunto di questo finanziamento abbiamo ristrutturato sostanzialmente questo vecchio lavatoio di San Pietro Altanagro un ritrovo per le donne di San Pietro Altanagro un posto particolare un posto che ha fatto per la gente del rione Torre ha fatto da simbolo il lavatoio del rione Torre di Via Secchio quindi qualcosa per noi particolare siamo contenti di averlo riaperto di averlo ristrutturato l'ultima ristrutturazione risale a circa 30 anni fa quindi noi sostanzialmente abbiamo ripreso un attimino ciò che sono le piccolarità di questo posto noi siamo la zona Torre è ricca d'acqua quindi il lavatoio è proprio un simbolo particolare di questo territorio devo ringraziare tantissimo le persone di San Pietro perché questa sera davvero hanno contribuito tutti alla riuscita di questa manifestazione e appunto alla riapertura di questo lavatoio questo fa parte di un progetto il lavatoio fa parte di un progetto un pochino più ampio che è quello delle vie dell'acqua oltre a ristrutturare il lavatoio abbiamo ristrutturato un'altra antica fontana di San Pietro Altanagro Fontana Canali che risale al 1850 e dopo avremo anche ulteriori diciamo ulteriori manifestazioni soprattutto riguardo ai ragazzi della scuola elementare ai quali daremo tutta una serie di kit per il compostaggio diciamo un'altra manifestazione che nei prossimi mesi diciamo faremo qui a San Pietro Altanagro noi pensiamo prima di tutto che per andare avanti per il futuro per avere un buon futuro dobbiamo vedere il nostro passato crediamo e quindi sostanzialmente stiamo lavorando per la riscoperta del nostro passato anche grazie a tantissime altre persone di San Pietro che ci danno una mano tipo Nicola Spinelli il professore Guagliarello persone diciamo che per questo comune hanno fatto tanto in termini di ricerca ma questa del lavatoio pubblico è un intervento che fa parte di un'iniziativa già di un anno fa finanziata dal GAL che mira il recupero di tutte le fonti d'acqua del paese quindi sicuramente mantenere viva già la sorgente d'acqua e quindi averne cura è un modo per conservare quelle che sono le tradizioni del posto quindi in quest'ottica sempre nell'ambito diciamo di quello che è la cura del territorio lavoreremo ancora e questo è uno dei tasselli che abbiamo aggiunto insomma al nostro operato sicuramente è uno di quei luoghi in cui ci si ritrovava e ci si ritrova ancora perché fino a quando non abbiamo iniziato i lavori di strutturazione era frequentato dalle varie signore che vi vanno a sciorinare insomma a sciacquare i panni e quindi questa tradizione che si è mantenuta inalterata per decenni ancora continuerà mi auguro e sarà sicuramente un modo per socializzare incontrarsi anche per i giovani questa sera alla sua riapertura Il Consorzio Provinciale Olivicoltori di Salerno in collaborazione con il Comune di Caselle in Pittari ha organizzato un corso gratuito di assaggio dell'olio extravergine di oliva che si terrà il 24 e il 26 marzo prossimo dalle ore 17 alle 21 presso la scuola l'aulamagna della scuola media di Caselle in Pittari tutti i dettagli si possono avere sul sito del Consorzio Provinciale Olivicoltori di Salerno oppure contattando direttamente l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari Voltiamo pagina apriamo quella dello sport con un comunicato stampa il Certosa di Padula si allontana prende le distanze dai fatti che hanno visto coinvolti i suoi tifosi nella partita a Buonabitacolo San Vito Sapri andata in scena allo Saverio Orlando di Buonabitacolo sabato scorso intanto ieri si è svolto anche il recupero del campionato di terza categoria a Girone di Provincia di Salerno che ha visto la vittoria dell'atletico Montesano contro il Montepruno Roscigno non senza polemiche non si placano le polemiche in botte risposta a seguito dei fatti accaduto sabato pomeriggio allo stadio Saverio Orlando di Buonabitacolo il San Vito Sapri ha esposto tramite i vari organi di stampa il suo punto di vista sulla vicenda la società saprese ha parlato di vero e proprio campo di battaglia di aggressione fisica verso i propri tessorati e di comportamento fortemente intimidatorio da parte dei tifosi della Certosa di Padula che sono giunti allo stadio nonostante la gara fosse a porte chiuse a smentire le parole della società della spigolatrice ci ha pensato Giuseppe Marchesano presidente del Buonabitacolo Soccer che ha all'interno della trasmissione Sport 1 TV di lunedì scorso abbassato la portata degli eventi e dei fatti mancava a questo punto la risposta da parte della società chiamata in causa ovvero il Certosa di Padula la società tramite una nota stampa ha espresso il suo punto di vista esprimendo la massima solidarietà nei confronti della San Vito Sapri per quanto si presume abbia subito sul campo del Buonabitacolo e preso le distanze da ogni tipo di comportamento antisportivo e ancora peggio illegale che qualche testa calda ha potuto commettere tali atteggiamenti riporta la nota non hanno nulla a che vedere con lo sport e possono soltanto danneggiare l'immagine di chi scrive si manifesta in chiusura la nota il proprio rammarico per quanto letto è sentito sui media territoriali da vari personaggi che hanno ingigandito la vicenda esprimento parziali verità e giudizi troppo sommari e diffamatori di un'intera comunità a questo punto sentite le versioni delle tre parti ognuno se ne potrà fare una propria ma sarà il compito eventualmente della federazione o delle altre autorità competenti prendere decisioni definitive intanto ritornando al calcio giocato nella giornata di ieri si è disputato il recupero del campionato di terza categoria a girone di provincia di Salerno in campo atletico montesano e montepruno roscigno che ha visto il successo dei padroni di casa per tre reti a uno così l'atletico montesano si porta a quota 21 punti in classifica mentre il montepruno roscigno resta a 10 una gara che è iniziata con oltre due ore di ritardo per assenza della direttore di gara e la società ospite tramite una nota su facebook si è congratulata ironicamente parlando con la federazione provinciale arbitri dopo aver aspettato per due ore al freddo l'arrivo dell'arbitro si legge nel post cercando di metterci in contatto con la federazione calcio di Salerno finalmente alla 18 ne è arrivato uno da buon abitacolo un arbitro non gradito alla società di roscigno che ha elencato tutti i torti subiti la società punta il dito contro la federazione che si legge in conclusione del post ancora una volta è stata assente e non ha tenuto conto che alle 15.30 sul campo di Montesano erano presenti 18 ragazzi la maggior parte studenti che appena usciti da scuola sono arrivati puntuali sul campo per giocare una partita di calcio e con questo servizio si chiude l'edizione serale delle Uno News vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa a domani mattina